La gioielleria Gallegioni di Gallegioni Marco è un negozio storico di strambino situato sulla piazza principale di fronte alla chiesa parocchiale. Con oltre 30 anni di storia ed esperienza si è imposta specializzandosi in orificeria, gioielleria, argenteria e orologeria. Trattiamo numerosi marchi tra cui ricordiamo Gemoro e Donna Oro di cui abbiamo un vasto stortimento di gioielli in oro e diamanti, Solitari, Fedine, Trilogy, Puntiluce, Orecchini, Bracciali Tennis e altri gioielli rigorosamente made in Italy. Da noi trovate le perle di Yukiko, brand specializzato nella vendita di perle australiane, giapponesi e di Tahiti. Marco Gallegioni è inoltre il Diamond Provider ufficiale per DTC, Diamond Trading Company, leader mondiale nelle vendite di diamanti da montare o per investimento. Proponiamo anche gioielli in argento in particolare. Ti sento Milano, noto brand che offre gioielli in argento rodiato di altissima qualità in manifattura, ad un prezzo accessibile a tutti. Fraboso Argento, azienda vicentina specializzata in catename e gioielli dal design molto innovativo. Amore Baci, il componibile italiano con cui puoi creare il tuo gioiello personalizzato anche in versione junior per bambini. Bliss, il brand più modaiolo di Casa Damiani. Vasto assortimento di fedi nunziali classiche e particolari, gioielli oggetti per le vostre ricorrenze, battesimi, comunioni, cresime e anniversari di matrimonio. Gli angeli di Roberto Gianotti, azienda specializzata in gioielli a tema dell'angelo custode. Inoltre, Zankan, gioielli per l'uomo che si vuole distinguere. Per quanto riguarda gli orologi, Lorenz, il classico Swiss made. Seiko, l'alta gamma giapponese di cui siamo concessionari in esclusiva in cannavese. Citizen, con il vastissimo assortimento di orologi Eco Drive, luce solare e radio controllati. Braille, il brand italiano più conosciuto e modaiolo. Ice Watch, l'orologio più venduto in Europa, con i suoi mille colori e modelli, tra cui spiccano gli Ice BMW Motorsport. Bearing, la novità più interessante. Orologi in acciaio e ceramica dal design super classico. Hip Hop, effettuiamo servizi di sostituzione pile e cinturini e ripariamo orologi di tutte le marche più diffuse e commerciali. Permutiamo il vostro rosato a quotazione del giorno, servizio di infilatura perle e di incastonatura dei vostri diamanti e di rimodernamento dei vostri gioielli fuori moda. Foratura lobby. La gioielleria Galegioni vi aspetta il lunedì dalle 15 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.